Gli studenti è un momento cruciale. Guido Pocobelli, Ragosta. In alcune facoltà quasi uno studente su due abbandona l'università tra il primo e il secondo anno. Ancora troppi, anche fuori corso, numeri che preoccupano spesso determinati da una scelta sbagliata. Conoscere bene l'indirizzo di studio che si sceglie è il primo passo per evitare delusioni. È per questo che l'Università Partenope e 53 scuole della provincia di Napoli siglano un patto per creare un ponte tra gli ultimi anni delle superiori e primi da universitari. L'orientamento diventa un fatto strategico affinché queste problematiche possano essere risolte. Quindi benvenga un'interazione fondamentale tra università e scuole finalizzata a tante soluzioni di problemi, in particolare a questi. Grazie.